buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione oggi voglio rispondere ad una signora che mi ha parlato di occhi 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 vista gli occhi ok e cosa può fare l'ipnosi perché ha letto delle cose sulla vista sugli occhi e l'ipnosi e anche l'auto ipnosi vera e professionale con la v maiuscola che possono aiutare la persona a riacquistare migliorare eliminare gli occhiali i difetti della vista bene ci sono casi scientifici ragazzi perché l'ipnosi è scienza e arte che dimostrano che con l'ipnosi si risolve il problema a vista infatti questa signora deve andare a fare una visita oculistica si ripete sempre non vedo non vedo devo andare non vedo non vedo non ci vedo più e l'età sto invecchiando e quant'altro quella è auto ipnosi e anche non conoscendo il termine ipnosi la signora si sta auto ipnotizzando e ogni tuo desiderio è un ordine dice il genio della famosa lampada di aladino il tuo subcosciente il tuo pilota automatico io ho aiutato tante persone ho creato anche degli audio mp3 dcs vista perfetta di auto ipnosi vera e professionale con ottimi risultati è logico che l'ipnosi e l'auto ipnosi non sostituiscono gli occhiali e le visite mediche e quant'altro tu devi sempre andare dal tuo medico di fiducia però utilizzare una cosa e l'altra certamente non ti fa male anzi hai la possibilità di eliminare le stampelle che si chiamano occhiali naturalmente lì non devi credere devi soltanto fare e può notare cosa succede oppure se non vuoi andare presso un professionista dell'ipnosi della tua zona dell'ipnosi sempre vera e professionale e né utilizzare supporti audio mp3 dcs puoi anche con la tua voce con le tue parole con i tuoi pensieri cambiare il modo di parlarti di convincerti che non vedi tu devi ripeterti io vedo io vedo io vedo oppure nella peggiore delle ipotesi o nella migliore delle ipotesi puoi usare anche il metodo bates bates scritto che lo trovi su internet era un medico scozzese dove ti dicono tutto c'è anche un'associazione a milano dove puoi andare e riavere la tua vista senza l'utilizzo di occhiali e sempre ripeto auto ipnosi di fatto ok visita la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesso del dottor claudio saracino visita anche i profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cesso del dottor claudio saracino ricordati non devi credere a me approfondisci analizza entra però sappi che l'ipnosi fa moltissimo per anche per la vista perché se dico questa mano mano diventa calda la mano diventa calda e l'ipnosi agisce solamente sul corpo un bacio un abbraccio dal dottor claudio saracino il prossimo video